salve a tutti e ben ritrovati dal vostro joe siamo ancora su onkai star rail finalmente stiamo iniziando a crescere stiamo iniziando a salire di livello quindi finalmente possiamo iniziare a parlare anche di cose più serie ma prima di parlare di cose serie bisogna comunque continuare a parlare e discutere anche di argomentazioni di base tra virgolette una delle argomentazioni di base che probabilmente più importante per un titolo del genere è sicuramente la corretta costruzione di un team in questo gioco però c'è anche una piccola cosa da attenzionare se si può dire così è una meccanica non dico segreta ma è una meccanica che comunque si riesce a percepire anche dalle prime volte in cui si inizia a giocare e si iniziano anche a leggere un pochettino i talenti e si inizia ad esplorare meno male quello che è il gameplay ovvero la disposizione anche dei personaggi all'interno del team perché non è soltanto importante conoscere le classi e se volete ci ho fatto un video apposito dove appunto spiego tutte le classi presenti all'interno del gioco che poi chiamarle classi chiamarle patti ovviamente poi bisogna anche giustamente differenziare e utilizzare la terminologia corretta però c'è appunto anche questa meccanica chiamiamola nascosta oppure questa meccanica implicita all'interno del gioco che è anche la disposizione dei personaggi nel party disposizione dei personaggi nel party che in una situazione o nell'altra può comunque salvarvi in in calcio d'angolo o comunque vi permette di gestire il turno successivo per riprendere il controllo sul match quello che intendo dire è esattamente questo come potete notare abbiamo ora in questo caso lasciate perdere la disposizione dei miei personaggi perché appunto stavo farmando e quindi ho messo yang king alla fine perché era quello che mi serviva meno e dunque lo sostituivo con il support che è uno ovviamente tra diciamo i ragazzi che mi hanno aggiunto ultimamente anche in live su twitch vi lascio ovviamente tutto in descrizione se volete passare sarete sempre i benvenuti detto ciò come potete notare all'interno di questa schermata il team comunque sia deve essere gestito e deve essere sfruttato anche dalla composizione composizione che riguarda quattro personaggi di cui tendenzialmente si preferisce avere un setup classico quindi un curatore un tank un dps e un sub dps questo sarebbe diciamo il setup o comunque la line up se vogliamo chiamarla in termine tecnico più corretta è ovvio che ci possono essere anche diciamo delle eccezioni dove magari si utilizzano due dps dove magari si può costruire anche un team un po più difensivo sfruttando meccaniche o di counter di follow up quindi mettere magari un tank con due sub dps e gestire al meglio la situazione ma questo è un altro discorso che magari si può approfondire per anche il completismo o comunque il completamento in generale di quelli che saranno i simulated universe quindi i mondi simulati oggi quello che voglio fare io è in realtà molto molto semplice voglio parlarvi della corretta disposizione dei membri del party e il perché soprattutto bisogna disporli in maniera corretta mettiamo uno slot vuoto o magari sì uno slot vuoto ecco giusto per iniziare a parlare più diciamo tecnicamente mettiamola così ovviamente il team è composto da quattro slot quattro slot che come vi ho detto già io tecnicamente dovrebbero avere la possibilità di inserire una line up quindi una formazione base che già sappiamo quindi tank solitamente dps o anzi dps healer e sub dps almeno in teoria si dovrebbe andare così ma la cosa più particolare di questo gioco è come si distribuiscono o come si dispongono in questo caso i personaggi all'interno del team il consiglio che posso darvi io è quello che nella parte esterna a sinistra o nella parte esterna a destra va messo assolutamente il tank perché vi dico di mettere il tank il tank in questo caso può essere rappresentato nel mio caso da jepard per esempio che appunto fa parte del patto della preservazione quindi è un tank oppure il nostro trial blazer quindi main character che ora è nella diciamo sua posizione di destruction quindi un dps ma in realtà può anche sbloccare successivamente nella storia la sua variante da tank quindi di press di preservation infatti se entrate nel menu e avete sbloccato appunto la possibilità potete cliccare sul tasto switch e cambiare il patto mettendo il vostro protagonista con il patto di preservazione avrete un tank tra l'altro il protagonista in questo caso del gioco è ottimo sia come dps che come tank al momento quindi sono molto contento di avere un personaggio comunque un protagonista di storia che effettivamente può essere valido anche dal punto di vista strategico e quindi di conseguenza il mio consiglio è quello di mettere il tank nella parte più sinistra della mappa e della mappa scusatemi della composizione o a destra perché vi dico questo perché il tank o per meglio dire dipende che tank volete giocare solitamente ha la facoltà di poter attirare gli attacchi su di sé quindi avere la capacità di aggrare così come il cioè il blazer di tipologia fuoco o comunque jepard che ha una passiva in questo caso che consente di essere targettato più frequentemente dei nemici è consigliabile inserirlo da questo lato e uno potrebbe dire ma perché questa cosa semplicemente perché il danno che il nostro tank subisce da questo lato può essere mitigato anche dagli attacchi aoe che vuol dire vuol dire che alcuni nemici se non effettuano un attacco completo quindi che attaccano praticamente tutti e quattro i nostri avversari tendenzialmente cioè tendenzialmente riusciranno a colpire il personaggio selezionato e quello adiacente quindi che cosa vuol dire che se noi dovessimo inserire il tank in una delle due posizioni centrali molto probabilmente essendo un tank e quindi attirando i colpi dei nemici avremo comunque il danno subito sia a sinistra che a destra della sua posizione e quindi questa cosa a noi non conviene mentre invece metterlo nelle parti esterne ci permette di tankare il danno quindi di prendere il danno singolo così come lo prenderebbe tranquillamente ma nell'eventualità si dovesse subire un attacco diciamo splash non tanto aoe ma splash ovvero con danno 100% sul nemico selezionato e danno in percentuale ridotta sugli slot adiacenti i nostri alleati colpiti sarebbero soltanto uno in questo caso perché verrebbe colpito soltanto l'alleato da questa posizione e non quello dall'altra quindi abbiamo comunque un risparmio di danni subiti successivamente l'altra posizione che si va a ovviamente riempire è quella della parte più destra in questo caso visto che noi il tank l'abbiamo messo a sinistra adesso riempiamo il diciamo lo slot con la parte più a destra e come la riempiamo questa parte più destra ovviamente con la curatrice o con le curatrici perché un po per lo stesso motivo quindi qualora venissero targettati ovviamente i curatori riuscirebbero comunque a mitigare i danni splash o comunque a mitigare i danni in generale e poi ovviamente attirando gli attacchi con il tank dall'altro lato del team è meno probabile che sia da danni splash che sia da danni diretti il nostro personaggio in questo caso la nostra curatrice possa essere colpita quindi di conseguenza la nostra curatrice l'andiamo a disporre praticamente nella parte più esterna rimarranno ovviamente le due posizioni centrali le due posizioni centrali ovviamente sono abbastanza sono abbastanza semplici da smistare o comunque sono in un qualche modo rimanenti e quindi devono giocare un ruolo fondamentale ma anche in questo caso c'è una corretta disposizione in questo caso vicino alla nostra curatrice metteremo il dps o per meglio dire il dps single target perché io al momento comunque possiedo come mio maggior dps il mio yang king che comunque è un cacciatore quindi patto di hunt e come ho già spiegato tante tante volte tutti i personaggi o almeno i personaggi che ci sono al momento che diciamo seguono questo patto quindi hanno questa classe tendenzialmente effettuano danni single target quindi sono molto più propensi all'eliminazione del nemico singolo ma nel caso particolare di yang king c'è una passiva che mi interessa ovvero la passiva che lui tendenzialmente viene attaccato meno quindi ha la probabilità di evitare di essere colpito quindi mettendolo in questo in questa posizione accanto a natasha abbiamo la possibilità di non far targettare yang king e di conseguenza non far subire danni a natasha che ovviamente rimane illesa e quindi può curare man mano i nostri alleati questa è una cosa molto importante perché dipende il vostro sub dps o il dps in questo caso perché stiamo parlando di yang king io posso giocarmi questa diciamo questa strategia di non farmi attaccare proprio per evitare di far subire danni splash o comunque in generale danni condivisi anche a natasha e poi l'ultima posizione ovviamente potete mettere chi volete potete mettere un altro dps se lo avete un sub dps un debuffer un breaker mettete tutto quello che vi interessa però fate molta attenzione perché il personaggio che andate a inserire qui essendo vicino al tank quindi ha una buona probabilità comunque di essere colpito dai danni splash o comunque dai danni condivisi dovete scegliere comunque un personaggio o che abbia una buona resistance sia per quanto riguarda effect resistance e anche per quanto riguarda magari la difesa in generale o che abbia un discreto quantitativo di hp in questo caso la mia scelta al momento si riversa su himeko semplicemente perché lei come sub dps e con la meccanica dei follow up quando andiamo a breccare mi ritorna abbastanza utile ovviamente a lei posso sostituire tanti altri personaggi c'è anche una serval che sicuramente potrebbe essere utilissima solo che io aspettando gli anjing preferisco avere magari lui in futuro al suo posto potresti utilizzare anche una 7 marzo ma 7 marzo essendo comunque un altra pseudo tank tecnicamente andrebbe a cozzare un pochettino con la meccanica di jeopard anche se in realtà mettere lei per dare gli scudi a jeopard e quindi farlo targettare potrebbe comunque essere una buona strategia anche perché comunque la sinergia tra marzo e jeopard è ottima visto che comunque marzo countera automaticamente quando un alleato viene colpito con uno scudo addosso quindi potrebbe essere sicuramente un'ottima un'ottima idea poi ci sarebbe anche dan hang però essendo anche lui single target sinceramente preferirei evitarlo perché avere 22 single target diciamo due attaccanti single target potrebbe essere buono dal punto di vista dei danni ma sinceramente non mi conviene ci sarebbe anche asta che al momento sto tenendo in disparte proprio perché possiedo chimico ma anche asta potrebbe tranquillamente prendere il posto per baffare per breccare e per fare ovviamente tutto quello che mi interessa all'interno del party quindi le scelte sono veramente veramente tante io però al momento vado di chimico proprio per dare la composition migliore al team che posso sfruttare in questo momento chimico tra l'altro ha un discreto quantitativo di hp di base certo non è diciamo lo stessa non è la stessa cosa magari di un jepard che avendo difesa alta e hp alti può tancare molta più roba però avere comunque la healer che mi rimane dall'altro lato e che riesce in un qualche modo a curarmi sicuramente mi potrà aiutare in futuro detto ciò in realtà non c'è nient'altro che volevo dirvi per oggi proprio perché volevo darvi questa piccola info volevo darvi appunto questo mio piccolo consiglio anche strategico se si può chiamare in questo modo proprio per permettervi magari di avere un occhio diverso quando appunto si andrete in generale a costruire il vostro team detto ciò io non ho nient'altro da dire spero che il video possa esservi utile in un modo o nell'altro fatemi sapere ovviamente se anche voi già applicavate questi piccoli accorgimenti mentre stavate costruendo il vostro team o se effettivamente avete pensato ad altro e quindi magari potete anche consigliarmelo sotto nei commenti detto ciò io vi ringrazio come sempre per aver visto il video in descrizione trovate tutti i collegamenti per potermi seguire instagram youtube che vabbè ovviamente il canale già qui presente youtube ma anche il canale twitch canale discord e ovviamente tutti gli altri social dove potete seguirmi o potete unirvi alla community detto ciò vi ringrazio ancora per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima bye bye